Il paradiso delle signore, giovedì 22 ottobre 2020. Laura ha una nuova idea che affascina molto Salvatore. Quest'ultimo decide di metterla immediatamente in pratica, chiedendo se il circolo possa avere bisogno di una fornitura di pasticceria. Se così fosse, il vantaggio per la caffetteria sarebbe davvero importante. Salvatore non coinvolge però Laura in tutto questo, nonostante sia stata lei ad aver avuto l'idea. La ragazza si arrabbia moltissimo e non può fare altro che sfogarsi con Roberta, che è pienamente d'accordo con lei. Vittorio intanto ha preparato una bella sorpresa per Marta, in occasione della sua ultima notte a Milano. Al risveglio la signora Conti è perfettamente consapevole che le toccherà salutare uno per uno tutti gli amici che lascerà. Intanto Armando si rende ormai perfettamente conto che quello che prova per Agnese è amore vero. Decide quindi di togliersi la fede che aveva sempre tenuto come segno di rispetto per sua moglie che ha perso la vita. Rocco vede subito che ad Armando manca l'anello e si convince che l'abbia perso, così fa setacciare tutto il magazzino. Siccome l'anello non si trova, Rocco inizia a sospettirsi e a pensare che il motivo possa essere un altro. Grazie a tutti!